Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, continua il suo percorso di capitale diffusa. Dal 18 al 25 febbraio sarà il comune di Pergola a diventare protagonista del progetto 50x50 capitali al quadrato, con un ricco calendario dal titolo Loro Blu. Siamo finalmente nel vivo di questo progetto per il quale ringrazio fortemente l'amministrazione pesarese per aver coinvolto tutto il territorio e tutte le città e anche i piccoli comuni della provincia. Nella prossima settimana numerosi saranno gli appuntamenti promossi e realizzati e partecipati dalle numerose associazioni locali. Saremo lunedì mattina con l'apertura di questa settimana e l'inaugurazione delle installazioni urbane a cura della Proloco. Poi si proseguirà anche martedì mattina ad esempio un appuntamento a cui parteciperanno anche gli studenti perché sarà dedicato alla collezione Piccinini e dal titolo Pietre che cantano. Nel pomeriggio ci sarà l'appuntamento promosso dall'Unilit. Il mercoledì passeremo poi alla musica con un'iniziativa a cura del coro pergolesi molto importante che vede il coinvolgimento. Non sarà solo un concerto, un'esibizione ma una performance con il coinvolgimento di altri cittadini che potranno partecipare e prendere parte a questo laboratorio. Si proseguirà poi con delle visite guidate, delle visite a dei luoghi della città a cura della Proloco come Casa Sponge e la Rebel House dove venerdì sera avremo questo importante concerto con Motta che sarà presente a Pergola. Poi proseguiremo sabato con l'inaugurazione della mostra e domenica anche con gli appuntamenti promossi direttamente da Pesaro 2024, quindi legati agli aperitivi con i prodotti dopo della provincia e l'iniziativa volta a scoprire i castelli nascosti. Siamo molto felici oggi di presentare la settimana di Pergola perché Pergola è stata tra l'altro una delle ispiratrici di alcuni progetti dei dossier a partire dal progetto che origina dal Guado che ora dà il titolo anche al progetto dell'Oro Blu che viene presentato questa sera e soprattutto ha messo in campo nei sette giorni una programmazione veramente ampia che va dalla valorizzazione del patrimonio artistico a partire dai bronzi di Pergola con una sala didattica che darà anche ulteriore vita e frequentazione ai musei che già funzionano benissimo e anche tanto contributo di artisti contemporanei. La nostra funzione è quella di accompagnare i visitatori che raggiungono Pergola per fargli visitare quei posti che normalmente magari sono chiusi e quindi non facilmente accessibili e noi quasi a tutte le ore del giorno e della notte senza esagerazione ovviamente però rispondiamo alle chiamate, alle convocazioni che ci arrivano anche tramite il museo dei bronzi dorati. La settimana prende il nome blu, l'oro blu appunto da questo progetto generale che è blu il colore della cuccagna che tocca sei comuni e che esplode nel comune di Pergola. L'oro blu in realtà è la cuccagna, la cuccagna significava il benessere, il benessere dei produttori del Guado. Su Pergola in qualche modo questa che è una tradizione dell'entroterra marchigiano diventa qualcosa di importante. L'arte contemporanea si fa propria di questo concetto e lo trasforma in qualcosa di straordinario con una serie di artisti importantissimi che hanno declinato l'oro blu, l'oro, il blu e l'oro. L'oro blu è una mostra che accoglie 38 artisti tra le più importanti presenze sul panorama nazionale e internazionale e porta un confronto aperto tra le collezioni d'arte antica e il linguaggio contemporaneo.